Nella giornata del 19 il Ministero dell'Interno ha diramato un comunicato molto importante per tutti i comuni che ospitano sedi giudiziarie. Infatti, come è noto, a partire dal 2015 le spese per il funzionamento delle sedi giudiziarie sono passate alla competenza del Ministero della Giustizia e non vengono più anticipate dai comuni. Tutti i comuni avevano la problematica del rimborso delle spese sostenute a partire nel periodo 2011-2015. Il Comune di Vallo era uno tra questi, era un importo considerevole, un credito importante vantato dal Comune di Vallo. Nel 2017 il Ministero della Giustizia con un DPCM diramò il riparto dei fondi procedendo ad un taglio selettivo molto importante di questo contributo. Il Comune di Vallo si trovò quindi con una richiesta che si aggirava intorno ai 3 milioni con un taglio di circa 700 mila euro da avere. Ovviamente con tutte le ripercussioni del caso perché tutte le somme già spese e rendicondate e trasmesse al Ministero non vennero riconosciute. Nel 2017 molti comuni impugnarono dinanzi al TAR il DPCM e le relative note. Il Comune di Vallo si limitò a mandare una lettera al Ministero non impugnando quel provvedimento. Quando ci siamo insediati nel 2021, non appena il Revisore ci ha fatto presente che noi dovevamo cancellare quel residuo perché non spettava più al Comune di Vallo quella somma importante, quello avrebbe comportato una vera e propria dichiarazione di dissesso per l'ente, abbiamo riavviato il procedimento con il Ministero, abbiamo instaurato un nuovo dialogo amministrativo, vi è stata una nuova istruttoria, sono state riconosciute una parte di questo contributo e alla fine però con un provvedimento che non era meramente confermativo il Ministero ha detto non avete diritto all'arresto delle somme. All'epoca noi impugniamo dinanzi al TAR quel provvedimento incaricando gli avvocati Franco Castiello e Marco Sansone ma il ricorso fu dichiarato inammissibile perché a detta del TAR il provvedimento era meramente confermativo e l'azione giudiziaria era stata posta in essere fuori termine censurando l'inerzia dell'amministrazione Aloia del 2017 che non aveva provveduto ad impugnare. Abbiamo ricorso in Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione rimarcando anche la censura nei confronti dell'omissione dell'inerzia dell'amministrazione precedente e in quell'epoca arrivarono gli avvoltoi, gli sciacalli a dire che noi avevamo fatto causa al Ministero che eravamo dei folli, che non potevamo fare causa, un comune non può fare causa al Ministero e abbiamo subito questa aggressione sociale da parte di molte persone che non perdono occasione di tacere. Con il comunicato del 19 giugno abbiamo preso la lieta notizia, ossia che il Comune di Perugia nel 2017 impugnò la delibera al TAR, vinse nel 2019, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia fecero appello al Consiglio di Stato, nel 2022 il Consiglio di Stato ha annullato Erga Omnes il DPCM del 2017, ha dichiarato priva di effetti tutto quel provvedimento. Dopo ben due anni il Ministero dell'Interno ha preso atto di questa vicenda e ha zerato quel provvedimento.